il rugby piave è una realtà presente nel territorio dal 1985 questa società è nata da un gruppo di amici di appassionati che hanno voluto portare il rugby nel quartiere nel quartier del piave dalla partita storica del rugby piave nel 1982 fatta a solighetto da cui sono nati i pilastri portanti del rugby piave il rugby piave conta oggi più di 200 tesserati ma un gruppo di giocatori che parte dall'under 6 quindi dai cinque anni compiuti ai 42 che sono i 42 anni che sono i giocatori della seniors lo scopo del club del rugby piave è quello di educare i giovani ai valori fondamentali del gioco del rugby che è quella l'amicizia la realtà il rispetto l'inclusione il sostegno reciproco e lo spirito di squadra e questo è importante per i nostri valori come dico sempre il rugby una palestra di vita in cui si trova insieme ai propri compagni ad affrontare sfide e paure saper riconoscere le sconfitte ed apprezzare le vittorie rispettando gli altri compagni poi concludendo con il terzo tempo sempre dopo le partite tra le iniziative del club non c'è solo il rugby giocato ma anche l'organizzazione di eventi non agonistici come feste a tema eventi ludico motori per le scuole feste dello sport promosse dalle amministrazioni comunali limitrofi feste dello sport al campo per gli open day e seminari tecnici di zona per l'aggiornamento degli dei nostri allenatori in particolare la preparazione dei giovani atleti è mirata a renderli pronti a affrontare le sfide agonistiche più impegnative allo stesso tempo mantenere l'impegno e mantenere alto l'impegno scolastico la pratica del rugby non solo aiuta la crescita fisica atletica di bambini e dei ragazzi ma contribuisce anche alla loro maturazione personale da quest'anno in occasione del rinnovamento dello staff dirigenziale tecnico e organizzativo il rugby piave ha deciso di iniziare un progetto di rinnovamento a lungo termine che la vedrà impegnata nella costruzione di un nuovo management che per i prossimi cinque anni avrà degli obiettivi specifici che riflettono l'orientamento di quello che è la mia volontà e la volontà del consiglio direttivo